ciao a tutti nuovo video su red come potete vedere qui dal nostro red lab oggi parliamo di caschi non è un sotto la lente questo perché devo dire che attorno a questo casco che è il supertech r10 il primo casco racing di alpinestars è stato veramente si è creato un hype pazzesco l'ho messo su nella prova della kawasaki l'ho indossato nella prova delle ktm e i commenti sotto le moto quasi non riguardavano le moto ma riguardavano facci sapere come va questo casco allora è giusto approfondire è giusto creare un contenuto visto che me lo chiedete dedicato vi faccio vedere innanzitutto cosa c'è dentro nella scatola perché insomma è un casco premium l'anno scorso in moto gp lo hanno utilizzato solo orge martin e jack miller quest'anno lo utilizzerà anche pedro a costa ve lo dico e poi l'ho usato un po anche io e vi faccio vedere cosa c'è dentro adesso è arrivato in versione diciamo per tutti non più limitata prezzo appena sotto i 1000 euro quindi casco sicuramente premium innanzitutto dentro la scatola questa in questo blister troviamo le lenti a strappo e il pinlock che nel caso mio è già stato installato sulla visiera appoggio qua la borsa che non è una borsa è una valigia praticamente quindi si può anche usare come come valigia per farsi un bel giro di due giorni e all'interno insomma faccio un bel unboxing il casco l'oggetto del nostro video il visierino stradale quello corto e le istruzioni c'è un libretto di istruzione abbastanza consistente poi vi spiegheremo anche il perché io addirittura non l'ho letto come fanno tutti ma ho fatto qualcosa di più il visierino che si può staccare si può staccare quello lungo e attaccare quello stradale che è un pochino più più piccolo e meno insomma meno vistoso e il casco allora innanzitutto prima di dirvi un po come è fatto il casco vi dico cosa cosa ho rilevato io nella guida devo dire che insomma Alpinestars ha seguito ovviamente le richieste dei piloti che sono stendenzialmente leggerezza soprattutto stabilità aerodinamica è un casco dedicato partito dai piloti della MotoGP e quindi soprattutto stabilità e grandissima ventilazione cosa che io ho rilevato nelle prove che ho fatto perché la ventilazione addirittura a volte è quasi eccessiva ci sono tante prese d'aria addirittura ce ne sono 11 in tutto il casco tra prese d'aria e estrattori ovviamente e la stabilità mi ha impressionato quindi presa d'aria devo dire ventilazione super top io di solito non utilizzo qui la parte sotto la golettina che non fa entrare in questo caso l'ho tirata via ma poi mi sono quasi pentito perché veramente aveva una circolazione d'aria comunque quello che passa dalle bocchette è veramente molto un flusso molto molto importante chi mi ha scritto come va lo consiglio insomma io quello che dico a tutti ragazzi è un casco principalmente nato per il racing e si vede perché per esempio la visiera con la chiusura a scatto che è molto molto consistente è una chiusura molto forte per sigillare tutto la calzata che è in questa fase nell'inserimento del casco in testa è piuttosto stretta è un casco che va provato bene perché è una calzata veramente molto precisa un fit come dicono quelli bravi veramente molto preciso io ho una S qui sono dovuto andare quasi sulla M mi sono fatto un po' adattare la calotta perché calza veramente stretto come del resto deve essere per i caschi dei piloti stabilità davvero di alto livello perché ho provato con le Naked con la KTM 270 all'ora sul rettilineo di Almeria tirandosi su frenare non sbatte veramente mai con l'aletta lunga non l'ho provato con l'aletta corta però devo dire che tutto sommato i materiali con cui è costruito la cura del dettaglio le visiere è tutto veramente di alto livello e ovviamente quello che chiedono i piloti è un casco che sia oltre che protettivo naturalmente anche assolutamente leggero abbiamo qui la nostra bella bilancina quella che utilizziamo per il resetto tutto vediamo cosa mi dice peso rilevato con pinlock montato e deflettore lungo 1574 grammi quindi come vi dicevo adesso siccome questo casco io vedete un po' cosa ho rilevato qui all'interno cioè nelle prove che ho fatto ovviamente lo proverò ancora perché merita di essere un casco che va approfondito la qualità dei materiali davvero è di alto livello l'assorbimento del sudore è davvero di alto livello anche con le KTM non è che facesse tutto questo caldo però siccome appunto l'hype attorno a questo casco è così alto e quando c'è qualcosa di nuovo è sempre bello andare a capire cosa c'è dietro negli studi sapete cosa faccio io? metto via tutto quello che ho tirato fuori da questa scatola salgo in macchina e vi porto a conoscere dove è nato questo casco e a parlare con chi questo casco lo ha studiato e progettato cioè i tecnici di Alpinestars Asolo, California siamo in Veneto ovviamente ma tra queste mura si parla solo in inglese e da queste mura escono a getto continuo i prodotti di uno dei marchi più iconici del motociclismo Alpinestars il logo con la stella lo hanno portato e lo portano ancora oggi sul petto i campioni che vincono ovunque in MotoGP, Supercross, Formula 1 il marchio con la stella significa oggi migliaia di capi di abbigliamento, scarpe, guanti e da poco, pochissimo, anche caschi forse non tutti sanno che qui a pochi metri da dove ci troviamo ora Sante Mazzarolo iniziò nel 1963 producendo scarponi da montagna chissà, forse arriva proprio dalle montagne il nome Alpinestars traduzione letterale con licenza poetica di stelle alpine un brand nato dal nulla è diventato un colosso che non smette mai di innovare e che quando fa qualcosa lo fa sempre a modo suo quanti anni sono passati da quel primo stivale da cross quante pubblicità, quanti piloti uffici e laboratori qui sono iper moderni ma non si smette mai di respirare la storia Prima di partire un paio di info ulteriori sul Supertech R10 6 le taglie disponibili dalla XS alla 2XL gestite da 4 diverse calotte il casco ha superato ben 3 test omologativi ECE 2206, DOT e FIM La visiera offre un campo visivo davvero super ampio 220 gradi laterali e 57 gradi in verticali e ha spessore variabile 1,6 mm ai lati 2,6 mm al centro Per l'arrivo sul mercato Alpinestars ha previsto colorazioni a tinta unita nero carbonio opaco e lucido bianco lucido e nero opaco il prezzo 999,95 euro il resto mancia Sono disponibili anche le due grafiche che vedete in queste immagini la TEAM di ispirazione racing e la ELEMENT minimalista e tradizionale il prezzo in questo caso arriva a 1199,95 euro il packaging di tutti i modelli include visiere fumè, chiare e scure, set di strappi lenti pinlock, mentoniera e deflettori E adesso vi porto dove nascono i caschi Alpinestars e conosciamo meglio Supertech R10 Eccoci qua, laboratorio Research R&D 2 perché ne avete più di uno di Alpinestars con Paolo Visentin che è test engineer dei caschi qui nascono i caschi Alpinestars Buongiorno a tutti Buongiorno faccio un po' di... allora sono venuto Paolo perché c'è veramente un'attenzione pazzesca su questo casco mi sono arrivati un sacco di commenti ho voluto andare un po' oltre il mio test venire qua e far capire un po' di cose che si possono fare con questo casco innanzitutto il posizionamento perché io da quando l'ho provato ho trovato un casco molto ovviamente indirizzato verso la pista verso il racing e come siete arrivati a creare questo casco storia è lunga però fammela prese certo, no no, chiaro chiaramente tanto io faccio l'unboxing che comunque ragazzi qui c'è dentro roba veramente di livello allora hai detto giustamente tu che è un casco comunque che nasce per il racing è stato sviluppato anche in collaborazione con tanti piloti che corrono e che correvano per cui diciamo anche alcune caratteristiche forse risultano veramente estreme perché sono pensate per ottimizzare le prestazioni in tutto per cui in termini innanzitutto di sicurezza che è l'obiettivo principe ma poi c'è anche molta ricerca sull'aerodinamica che è altrettanto importante specie MotoGP e così via e anche sulla ventilazione per far sentire il pilota confortevole durante tutta la gara e così via cose che io confermo perché nei miei primi test ho provato sia con moto carenate sia con moto naked che insomma dal punto di vista stabilità sono molto critiche il casco con l'aletta lunga è molto stabile e soprattutto la reazione mi ha veramente impressionato perché ok non faceva caldissimo quando sono andato ad Almeria a provare la moto però quando sono andato invece a Carla a provare la Kawasaki faceva un caldo bestiale e ho trovato un casco assolutamente ventilato fu quasi quasi troppo ecco diciamola così infatti io qualche presa l'ho anche chiusa allora io mi ricordo non voglio dire sciocchezze 11 passaggi d'aria chiamiamoli così non prese d'aria perché ci sono prese sfoghi corretto esattamente queste davanti esattamente allora la principale che è quella superiore che è studiata in questa posizione anche perché diciamo quando sei in carena è questa la posizione principe dove arriva l'aria perché tutte le altre posizioni ovviamente quando sei poi anche in carena rimangono parzialmente nascoste in ogni caso abbiamo anche poi queste bocchette frontali che si possono aprire in due posizioni e sono anche così indirizzate quindi si aprono dall'alto verso il basso perché l'aria quando arriva sulla visiera poi viene rimbalzata e quindi viene poi incanalata nella parte nelle feritoie anteriori adesso scusate un po' vissuto perché ho preso l'acqua con le KTM quindi magari lui adesso non ridisce che è un po' sporco no no siamo abituati anche coi caschi da cross per cui vediamo di peggio e poi c'è comunque anche questa questa porta di ventilazione posteriore che serve appunto per estrarre l'aria e anche non so se sono visibili adesso qua dietro poi faremo le strette qua sotto sotto allo spoiler ci sono altre porte di ventilazione quindi per estrarre aria calda e mantenere tutta la ventilazione io ho studiato un po' e allora alla aerodinamica tra l'altro c'è in due versioni questa è quella piccola se non mi sbaglio quella stradale chiamiamola stradale mi fai vedere come si fa sganciare perché io ci ho provato onestamente avevo paura è talmente un oggetto pregiato che quando mi sono messo lì ho detto spacco e allora semplicemente basta con le mani pian pianino sollevare ci sono appunto questi questi ping sì perché diciamo lo scopo di questi ping è dublice il primo innanzitutto è di permettere il cambio di spoiler quindi se uno va a correre in pista tendenzialmente mette quello lungo per l'uso stradale privilegia lo spoiler corto ma anche perché poi il nostro spoiler riprende un po' il concetto della visiera sul casco cross che si deve staccare in caso di impatto esattamente perché non deve dare un effetto leva deve ridurre il potenziale effetto leva sul collo ecco per cui pian pianino si va a staccare quindi praticamente se dovete cambiare l'aletta ovviamente qui Paolo tranquillo lui è disponibile sono sempre qui sempre qui ve lo fa c'è del biadesivo c'è del biadesivo ok quindi diciamo l'operazione magari sì basta farla con cura non è niente di complicato pian pianino diciamo che non è un'operazione che si fa tutti i giorni ecco una volta una volta scusate l'ho messo qua in mezzo tutto quello che vedete qui ovviamente conferma il palo è anche questa è la limited edition ovviamente ma c'è anche nella versione che viene venduta guarda guarda come si vede bene adesso la presa l'estrazione d'aria adesso esattamente ancora qua qui e poi anche queste più piccoline qui comunque sono tutte prese di estrazione si toglie con calma quindi un po' di manualità e si fa questa parte qua perfetto direi che insomma è molto interessante effetto stabilizzatore esatto non siete gli unici ad usarlo perché qualcun altro li ho visti anche su qualche altro casco qual è il vantaggio di avere due alettoni chiamiamoli così esatto noi li chiamiamo wings vanno di moda sulle moto esatto no diciamo che questa poi è un concetto che abbiamo sviluppato durante la galleria del vento abbiamo notato appunto che ovviamente di solito quando si studia in galleria del vento si guardano tendenzialmente i flussi che passano sopra il casco però abbiamo notato anche tutti i flussi che girano attorno al casco e soprattutto quando si esce da carena o comunque siamo ad elevata velocità il casco per via della turborenza aerodinamica che c'è sul posteriore tende un po' a vibrare esattamente aver aggiunto queste queste side wings ci ha permesso innanzitutto di ridurre il drag totale per cui la combinazione di spoiler lungo e di side wings ha ridotto del 4% circa la resistenza aerodinamica ah quindi è un casco più aerodinamico esattamente che aiuta adesso perché ha velocità massima il MotoGP e poi soprattutto aiuta a stabilizzare i flussi attorno al casco per cui a ridurre questa vibrazione della testa dell'utente specie quando sei ad alta velocità in carena e poi arrivi in curva e quindi ti alzi e esci da carena sei investito dal flusso d'aria e anche i piloti poi MotoGP confermano che risentono particolarmente Cosa che posso confermare avendo provato diciamo sulla Naked velocità di 265 km all'ora con la KTM Superduke 1390 che ruzza di brutto è vero che tu sei basso quindi sei facilmente soggetto a turbolenze ne ho sentite veramente poche questo devo dare atto e anche quando ti tiri su per per frenare anche lì poche turbolenze quindi a questo punto di vista qua devo dire che il casco mi è piaciuto tantissimo ti faccio delle domande curiose l'ho usato un po' questo tasto piuttosto sostenuto ovviamente la visiera ha una chiusura perfetta la parte ottica della visiera questa visiera scura qui abbiamo una visiera di un'altra di un'altra granulità che sembra che sia quella chiara voluto insomma diciamo che uno ha la vita di tutti i giorni perché ti dico che è un casco molto racing perché vedo che una volta che l'hai chiuso lo usi e poi finisci scendi dalla pista ai ragazzi che mi scrivono insomma siamo qui per voi è perché avete fatto un sacco di domande quindi ma come lo pensi io lo dico onestamente è un casco molto indirizzato verso l'utilizzo pistaglio non è che è vietato usarlo io l'ho usato con la Yook 390 è chiaro che devi sapere che devi avere delle cose tipo la chiusura qui della visiera che quando magari ti vuoi formare tira sulla visiera al volo qui devi spingere un po' di più sì diciamo mi permette di dire è più questione di abitudine che altro è assolutamente voluta perché diciamo ovviamente voluta nel passato abbiamo visto non dico spesso ma è successo di vedere durante gli urti soprattutto nella fase frontale visiere che saltano via e quello non è bello perché poi se ghiaia negli occhi esatto esatto per cui l'obiettivo era quello di avere un meccanismo che fosse sicuro al 100% diciamo è tra virgolette automatico nel senso che io comunque quando abbasso la visiera lui in automatico si blocca e poi rimane chiuso cioè la visiera se non è volontariamente aperta sì sì questo ve lo posso confermare non si apre per cui ha il fine di essere il fine di questo meccanismo era la sicurezza quindi evitare aperture involontarie apertura a scatti quindi io approvo quindi diciamo su strada non è consenso ma la visiera sarebbe sempre meglio chiuderla però se volete prendere un po' di aria anche se qui vi garantisco che di aria ne prendete un sacco infatti io ho tolto anche questo perché io quando vado in pista ho bisogno di proprio devi respirare ho tolto questo che è il velcro qua sotto e devo dire quasi lo rimettevo perché comunque di aria ne entra veramente tanta ho notato a livello di calzata ecco parliamo della calzata quindi visiera come si smonta la visiera facciamo vedere facciamo vedere tutto da lui cosa almeno io mi permetto solo di aggiungere un paio di cose relativamente appunto al meccanismo visiera allora ho capito che non è il tuo problema avere maggiore aria però nel caso sia una giornata calda o qualcuno piace avere ancora più aria c'è anche la possibilità di rimuovere questa cover per cui abbiamo ulteriori due buchi nella parte frontale del mento e quindi altra aria che può entrare questo ecco perché sono venuto qui perché queste cose qui se no è molto difficile capire cioè veramente ormai un casco bisogna fare un mezzo corso la visiera l'avevo cambiata io esatto mi permetto solo di aggiungere poi che diciamo è difficilmente visibile a occhio nudo però la visiera non ruota solamente attorno al perno centrale ma roto trasla per cui l'obiettivo era quello di nel momento in cui appena io apro la visiera avanza di 3 mm poi ruota e poi torna diciamo ad abbassarsi fa una sorta di ellisse esatto l'obiettivo di questo è quello di evitare eccessivi spregamenti sulla guarnizione quindi prolungare la durata della guarnizione e permettere però una volta che la visiera è chiusa di avere veramente una chiusura ermetica cioè quindi l'aria la fai entrare da dove deve entrare esatto ecco diciamo l'aria e l'acqua e l'acqua che non deve entrare esatto perché quando corri con la visiera che gli entra l'acqua ragazzi non è proprio una cosa bellissima mentre per sostituire la visiera basta semplicemente sollevarla fino a fine corsa tirare questa leva col dito e quindi la visiera molto molto semplice lo stiamo smontando dai interni ovviamente lavabili esattamente sono tutti rimovibili esatto per cui ah c'è un tema che mentre tu mi stai smontando gli interni sì rs è il sistema di emergenza quindi quando si va malaguratamente a cadere si consente di sfilare il casco senza fare eccessive torsioni o trazioni del collo esatto diciamo viene si infila un dito si rimuove il guanciale e per cui poi la testa è molto più libera di uscire non viene trattenuta dal dall'imbottitura e dal casco per cui te lo smonto tutto sì sì smontamelo tutto io poi non sono capace però dopo lo rimonti tu perché è stato bene omologazione ragazzi qui anche omologato FIM quindi MotoGP quindi il massimo EC2206 ovviamente obbligatore per tutti quindi ci sono i due stiamo mandando in pezzi un casco veramente pregiato ragazzi questa cosa qua però dopo lo rimontiamo sì sì infatti ecco io allora vengo alla curiosità sono qui questa forma particolare io come ho studiato ho letto che serve per le clavicole è corretto? esatto anche questa diciamo è una soluzione che è nata nel casco da cross e l'abbiamo poi adattata anche a un casco il casco GP la calotta non è rettilinea diciamo ma questa questa curva per permettere un eventuale nel caso di caduta quando il casco ruota per evitare che la calotta che è rigida vada a sbattere contro la clavicola per cui in caso d'urto in caso di piegamento della testa si va ad impattare prima su polistirolo con il polipropilene questo è polipropilene quindi è più elastico e evita tendenzialmente sì che eventualmente collassa tra virgolette o elastico comunque un po' collassare prima di arrivare sulla parte carmone è sicuramente molto più più elastico e più morbido della calotta ecco per cui tra l'altro vedo qui scusa adesso che me l'hai aperto per l'eventuale interfono esattamente uno magari al Mugello per certo l'ora mi arriva una chiamata non so no vabbè saranno sviluppi futuri di cui non è dato sapere allora io devo dire l'ho provato visibilità perfetta otticamente la visiera mi è piaciuta ventilazione molto stabile io l'unica cosa che ho trovato però sono qui anche per questo era la calzata che non è necessariamente appunto un punto negativo ho trovato un casco che quando lo infili è molto la parte della calzata è molto stretta quando ce l'hai su invece calza perfettamente ho segnalato al tuo collega Gordon che è il nostro referente insomma che quando ero in certe posizioni in curva vedevo un po' la parte qui del pinlock e gli ho detto guarda che però con la cuffietta tu te lo puoi adattare cioè cambiare un po' la posizione del casco sulla testa come funziona questa cosa? allora il nostro sistema E-Head che diciamo è la parte superiore dell'imbottitura per cui non so se si riesce a vedere bene che sono questi cosi arancioni adesso poi magari Luca poi magari facciamo Luca l'operatore dietro ciao Luca e dietro facciamo un po' gli stretti facciamo vedere allora innanzitutto la smonto così la vediamo e poi vi spiego come funziona anche questo allora il top pad è facilmente rimovibile per lavarlo come tutto il resto dell'imbottitura anche perché se no nella MotoGP esatto ma anche nell'uso quotidiano comunque ecco questo E-Head appunto questo telaietto viene agganciato al casco tramite questi fori che si trovano sulla parte superiore del polistirolo ci sono tre posizioni di questo possibili di questo telaietto in questo modo nella posizione base diciamo il telaietto è centrale centrale e nella posizione più bassa per cui il casco è nella posizione più bassa possibile rispetto alla mia testa ok ok io posso eventualmente modificare il posizionamento di questi pin per cui nell'eventualità facciamo finta che io diciamo il problema che ho rilevato io la cosa che ho rilevato io cioè vedo un po' la misera che in certe situazioni quindi quando sei nella situazione di piega che tu hai lo sguardo molto in alto esatto vedo un filino al bordo del pinlock esattamente lo devo ruotare esatto cosa faccio io sposto questi pin anziché mantenerli nella posizione più bassa li metto nel foro centrale ok in questo modo giro il casco così forse diventa più chiaro comprensibile questi sono nella posizione centrale se io questi pin li posiziono nel foro un po' nel secondo foro quindi quello un po' più basso lui ruota lui rimane esattamente dov'è perché è posizionato sulla testa quello che succede è che il casco ruota ok eventualmente ho anche un terzo foro per cui posso far ruotare maggiormente ancora il casco o viceversa se io lo volessi che punta un po' più in basso potrei fare la stessa cosa nel posteriore e se lo faccio insieme sia coi fori anteriori che posteriori quello che succede è che il mio casco si alza si alza o si abbassa sulla testa per cui ho diciamo estrema libertà di posizionarmi il casco poi come in base alle mie esigenze per cui quello che adesso ti consiglio di fare possiamo farlo tranquillamente ho visto che era posizionato nell'1-1 quindi nella posizione standard ruotarlo a me più che alzarlo ti dico esatto ruotarlo per cui lasciare la parte i fori posteriori dove sono e ruotare la parte anteriore in modo tale che poi il casco ti si alzi e si ampli diciamo la visibilità ok adesso ho capito quindi il prossimo test poi vi vi mando un feedback esatto esatto a rimontarlo vedo che sia tutto abbastanza semplice intuitivo mentre lo stiamo rimontando una domanda voi ovviamente quando siete partiti che siete partiti da zero perché Pinnestars ha ovviamente uno storico riabbigliamento stivali poi siete partiti col casco da cross siete arrivati sul casco racing che comunque sono due diciamo usi molto differenti certo ovviamente avete guardato quello che c'era in giro dicendo magari prendo un po' del buono perché comunque del buono oppure ho tutta la mia filosofia faccio questo perché sono sicuro che è meglio e non guardo niente del resto no diciamo che la filosofia del Pinnestars è quella di di fare da sé diciamo l'obiettivo anche il motivo per cui è stato allestito un reparto caschi un laboratorio per fare tutti i test di sviluppo è quello di fare sviluppare la tecnologia in casa diciamo il casco forse da cui forse abbiamo preso un po' spunto posso dire l'SM10 per cui il casco cross che sicuramente è una destinazione è un uso diverso però alcune soluzioni che già funzionavano di là come ad esempio l'A-Head oppure la protezione della clavicola le abbiamo anche adattate all'uso all'uso road all'uso racing ecco però facciamo da noi diciamola così quest'anno l'hanno usato due piloti se non mi sbaglio giusto nella MotoGP Martin e Jack Miller di cui abbiamo una diapositiva scusate uno di quelli che ha sperimentato esatto qui non si è staccato però l'olettone quindi non ha fatto la pesciatina dipende molto questo per farvi vedere scusate perché questo è il casco di Jack Miller dentro e questo è il mio quello che poi comprerete spero anche voi stessa cosa non stiamo parlando di caschi speciali stiamo parlando che il casco che usa il pilota è quello che noi possiamo niente come i caschi è più vicino a quello che possiamo comprare di quello che usano i piloti e tu sicuramente sarei stato presente la prima volta o non eri presente o ti hanno riportato insomma prima volta che lo mettono cosa mi interessa la curiosità di dire ok l'ha messo su Martino e Miller fanno dieci giri si fermano e dicono oh buono non buono non lo so allora una delle prime cose che dicono sicuramente è quello che hai notato anche tu è l'estrema ventilazione sentono proprio l'aria che entra e li fa rimanere confortevoli e anche tutta la parte aerodinamica per cui la stabilità del casco loro una delle primissime cose che hanno detto è quando io tiro fuori la testa per entrare in curva quindi per frenare non non sento il casco che sballottola quello è diciamo il primo feedback che più o meno tutti hanno riportato quanto conta per voi cioè queste cose qua vengono fatte in galleria del vento sicuramente voi fate tutti i vostri test il casco lo fate al computer e poi gli ho dato al pilota il pilota poi vi fa fare delle modifiche immagino nel senso si riesce con delle simulazioni ad arrivare a una roba quasi perfetta sì beh allora innanzitutto facciamo durante lo sviluppo prima si fa tutta una simulazione CFD per cui varie soluzioni vengono studiate e validate alla CFD per cui al computer una volta che abbiamo identificato quelle che sono diciamo le potenziali soluzioni vi faccio vedere ad esempio un esempio qui che abbiamo utilizzato durante lo sviluppo dello spoiler una volta diciamo evidenziate e individuate due o tre soluzioni potenzialmente buone quello che facciamo è stampare con la stampante 3D i prototipi siamo andati in galleria del vento per cui abbiamo fatto molte sessioni in galleria del vento per testare differenti versioni di spoiler differenti versioni delle winglets e così via è stato anche molto testato a Dovizioso esatto esatto Andrea Dovizioso ci ha dato una grandissima mano che so mi risulta essere un tester molto puntiglioso puntiglioso è preciso cioè anche a sviluppare le moto spuntiglioso detto nel senso positivo nel senso che ti dà molti spunti veramente buoni su cui poi andare indagare e su cui lavorare quello sicuramente la sua esperienza è stata molto 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 ma io direi che secondo me adesso la nostra chiacchierata la chiudiamo nel senso che penso di aver estrapolato tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo R10 che è Supertech che insomma è un casco che veramente ha creato un interesse la cosa che mi ha fatto un po' mi ha stupito ma fino più di tanto è la credibilità che questo marchio ha nel senso che non è così semplice da un marchio che fa guanti, stivali, giacche eccetera arrivare nei caschi e creare tutta questa attenzione evidentemente c'è veramente forse col casco da cross avete già sdoganato un pezzo di un pezzo di capacità che avete già dimostrato che siete capaci di fare casco qui sviluppate tutto qui dentro giusto qui ci sono tutte le macchine se poi ve le facciamo anche vedere per fare i crash test abbiamo corri d'impatto abbiamo abbiamo tutte le macchine diciamo per fare i test di omologazione tradizionali poi abbiamo sviluppato anche altre macchine più specifiche per fare controllo qualità e controllo su alcune caratteristiche del casco ad esempio una macchina che abbiamo sviluppato appositamente per questo è la macchina che va a fare i cicli di fatica sull'apertura e chiusura della visiera per cui facciamo fino a 50.000 cicli di apertura e chiusura per verificare che tutto il meccanismo possa durare tutta la vita del casco ecco bene io direi che allora la visita al mio laboratorio vado via adesso adesso lui me lo rimonta il pallo lo rimontiamo la visita all'RD con il pallo la chiudiamo qua penso di aver estrapolato tutto comunque in ogni caso qua sotto nei commenti chiedetemi quello che volete io poi chiamerò lui mi faccio rispondere vedi ho scoperto per esempio che c'è un'aria in più che io non sapevo non ti chiedo perché tanto non me li dirai ulteriori sviluppi futuri ci sono però dove volete arrivare ancora non lo so però va bene questo è tutto io direi che possiamo chiudere qui qua sotto nei commenti io vi aspetto se volete dirmi qualche cosa se volete scrivere abbiamo un filo diretto direttamente con l'azienda ovviamente intercederò io perché altrimenti povero Paolo non ne esce più e direi che noi ci possiamo vedere al prossimo video a Autore dei sovrapposti